Insomma, che cosa sta facendo la Lega di Costruttivo per questi disagi? Noi stiamo cercando di risolvere alla radice i problemi. Dove governiamo, penso a Verona e penso a Padova, a Verona abbiamo sgomberato i campi Rom. Non ci sono più i campi Rom, perché i campi Rom non ci sono in nessun paese del mondo, non ci sono neanche i Romania in campi Rom. I Rom devono avere i diritti e i doveri di tutti gli altri cittadini, quindi la casa la comprano, l'affittano, fanno il mutuo, si mettono in coda per una casa popolare. Quindi dove la Lega governa ci sono meno problemi, perché noi cerchiamo di prevenire, altro che soffiare sul fuoco, e poi cerchiamo di dare contributi veri, non gli 80 euro fuori dalla finestra. La Lombardia dà 400 euro al mese alle mamme e ai papà, separati o divorziati, con dei bimbi a carico, per prevenire la rabbia, l'incazzatura e la frustrazione. Lo facciamo in silenzio, senza le telecamere come quel fenomeno di Renzi. Però io ripeto, le due città italiane dove l'immigrazione regolare è meglio inserita, secondo uno studio della Bocconi, sono Varese e Verona. Guarda caso, amministrate dalla Lega, quindi l'immigrazione regolare, controllata e qualificata è un valore aggiunto. L'immigrazione alla Chienge è un casino, perché poi la gente si arrabbia.